Siamo nel pieno della stagione dell'amore e Massimo Giletti, l'affascinante conduttore dell'arena, sembra scalpitare pur di non rimanere da solo. Pare infatti arrivata al capolini alla storia con Alessandra Moretti, la candidata pedia alle elezioni in Veneto, con cui aveva una relazione dal 2013. Troppi a quanto pare gli impegni di partito per la Moretti e troppi gli aerei presi da Giletti per raggiungerla. Come li vedreste allora Massimo Giletti e Barbara D'Urso insieme? Il gossip impazza, dal momento che si fanno sempre più insistenti i rumors che li vedrebbero complici e vicini come non mai. Galeotto probabilmente l'incontro a Forte dei Marmi l'estate scorsa tra i due, a cui poi sembra siano seguiti altri incontri del terzo tipo. Per ora Giletti e Radurso fanno scena muta, aspettiamo però altre news o avvissamenti sospetti dei due conduttori insieme.